Sì, come diceva, questa azienda è un'azienda che rappresenta meno dell'1% di fatturato del nostro gruppo complessivo, anche l'investimento fatto non è enorme, però è un'azienda interessante nel settore dei tubi di accio inossidabile, ha una quota di mercato interessante là. Allora, quello che sta succedendo, noi non abbiamo chiuso l'azienda per il momento, stiamo salvaguardando i posti di lavoro, ovviamente non vendiamo solo al mercato russo, vedremo cosa fare, per il momento siamo lì, stiamo cercando di capire meglio cosa fare, è chiaro che dall'altra parte invece come Marcegaglia dall'Italia abbiamo interrotto ogni rapporto in termini di acquisto di materia prima, c'è un tema importante perché è chiaro che ci sono degli interessi economici, ma prima di tutto gli imprenditori sono cittadini e quindi io personalmente condivido tutto quello che ha fatto il nostro governo, quello che sta facendo l'Europa in senso di porre le sanzioni più pesanti mai viste e quindi come dire, vediamo un po' cosa succede, navighiamo un po' a vista, è evidente che probabilmente quello che noi vediamo è che probabilmente il mercato russo si fermerà con tassi di interesse al 20% senza possibilità di finanziarsi, penso che il mercato imploderà, ci saranno una serie di fallimenti e quindi credo che la situazione in Russia diventerà molto problematica e quindi anche la nostra azienda sarà poi alla fine fermata.